E quindi non capite come cercare altre persone che condividano i vostri valori. Eccoci qua signori, siamo qua con Simone Caloni, CEO del Big Luca Group. Ciao Simone, come stai? Tutto bene. Tutto è la prima volta che ti ho chiamato Simone, di solito per me sei Caloni. È il consulente marketing più pagato al mondo. Ok, benvenuti a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Una giornata con lui costa 20 mila euro. Riconosciuto come il creatore di milionari. Allora, ascolta attentamente il papi. Ha già rivoluzionato le sorti di decine di migliaia di imprenditori. È tra gli esperti più preparati al mondo in campo marketing, business e make money. Abbiamo creato un qualcosa di mai visto prima. Con il suo approccio brutalmente diretto e pratico. È il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. Imparare veramente come si fanno più soldi, veramente come si è liberi. Imprenditore, autore e formatore acclamato. Allora, oggi dobbiamo parlare del perché le persone non riescono a trovare i collaboratori giusti. Una delle lamentele più grandi che noi riceviamo, facciamo consulenza, mastermind, eccetera, è sì ho capito che devo delegare, devo avere l'ecosistema di marketing, giusto, ho capito, bello. Ho capito che è vero che bisogna fare qualcosa, perché insomma non è che ci sia molto da capire. Però chi me la fa sta roba? Tu mi dici che devo avere il dipartimento di marketing, eccetera, ma io non riesco a trovare i collaboratori. Allora, parliamo un attimo di questa cosa qui. Cioè, noi come ritroviamo i collaboratori in gamba? Allora, intanto partiamo da un primo presupposto importante, che è proprio la nostra realtà. La nostra realtà di base attrae talenti, attrae persone in gamba che vogliono lavorare con noi, perché noi abbiamo ovviamente un ambiente motivante, siamo all'interno della formazione, siamo punto di riferimento proprio della formazione in lingua italiana e quindi la gente vuole lavorare con noi. Quindi mi dispiace per tutti gli altri che non hanno questa fortuna, noi abbiamo questo vantaggio. Poi però ovviamente passiamo, dopo che la persona si è proposta che vuole entrare all'interno del nostro realtà, vuole entrare all'interno del nostro team, passa attraverso tutta una serie di azioni fatte dai nostri manager, di valutazione, di esame, di capire dove metterlo, dove collocare questa risorsa in base alle sue caratteristiche, in base a che tipologia di talento è e, cosa non scontata, prendiamo solo talenti. Non prendiamo persone che devono ricoprire dei ruoli, tra virgolette, da dipendente classico, quindi in stile scimmia d'ufficio. Non abbiamo questa necessità e quindi noi abbiamo solamente persone che intanto si propongono da noi, che già sanno fare qualcosa e già apportano il loro contributo all'interno dell'azienda, apportano il loro talento vero e proprio. Quindi noi ricerchiamo determinate figure, mettiamo la nostra richiesta di candidature sui nostri social, sui nostri canali e attingiamo come prima risorsa proprio dal nostro pool interno di studenti. I nostri studenti sono il primo pool di persone che andiamo a ricercare. Poi ovviamente parte tutta la selezione, parte tutti gli esami per verificare se effettivamente la persona è in grado di lavorare o meno con noi. Che esami sono? Allora, solitamente passano da tutta una serie di colloqui. Il primissimo colloquio è puramente tecnico in realtà, quindi andiamo a vedere se per la mansione che noi ricerchiamo, per il ruolo che noi ricerchiamo, la persona è in grado di svolgerlo al meglio. Quindi appurato questo andiamo a verificare se la persona condivide gli stessi valori che l'azienda. Perché questo è un nostro punto importantissimo, lavoriamo solo con persone che condividono i nostri valori e che sono persone che possono stare all'interno del nostro team con determinate caratteristiche. Dopodiché andiamo a fare tutti degli esami proprio sul campo, quindi andiamo a verificare se la persona è in grado di svolgere il lavoro con i nostri ritmi. Quindi abbiamo solitamente circa un mese di prova, però in realtà varia da mansione a mansione, varia da ruolo a ruolo. E andiamo a verificare all'interno di questo mese se effettivamente la persona, intanto ci ha detto la verità, questa è la prima cosa. Ecco, questo è un concetto importante per noi perché si fa tanto parlare di dire la verità di onestà, noi ce l'abbiamo come principio cardine, se vuoi magari spiegare perché, per come. Sì, esatto, è importantissimo questo perché abbiamo avuto seri problemi, ok, con persone che non dicevano la verità. Tutti, diciamo, e tutti ci definiamo persone sincere, ok, chi più chi meno. La realtà dei fatti è che invece moltissime persone dove possono e quando gli viene comodo e quando fare questa azione porta a loro un vantaggio. Di breve periodo. Esatto, mentono. Quindi moltissime persone lo fanno, moltissime persone fanno, non mi viene, fanno un upgrade delle loro caratteristiche. Che abbelliscono. Abbelliscono le loro caratteristiche, ma eccessivamente quasi in modo dannoso perché ci sono delle persone che magari dicono io sono in grado di fare X, poi in realtà sai fare il 40%, il 30% di quello che hai detto, ecco questo è un problema. Noi tendiamo a scartare persone che fanno queste over promise, quindi che cercano di far vedere che loro sono i migliori in assoluto, perché poi la realtà dei fatti è che il 99% dei casi non è così, mentre siamo molto più predisposti a prendere persone che sinceramente dicono questa cosa non la so fare, ma voglio impegnarmi, voglio capire come si fa e voglio magari apprendere tutto il possibile per poter poi essere in grado di farla quella cosa. Stesso io, quando mi sono presentato, io non ho detto di essere il mago esperto, il migliore in assoluto, c'è stato un processo di crescita e sono partito tra virgolette dal basso, ovviamente. Certo, ovviamente. Ok, questo è importante perché è uno dei criteri, il motivo per cui voi non trovate i collaboratori è perché voi non sapete cosa state facendo, quindi non potete ascrivere quello a cui la cosa, l'oggetto della vostra attività, dei valori e quindi non capite come cercare altre persone che condividano i vostri valori, perché non sapete quali sono. Sì. Cioè se anche voi, le persone dicono io voglio gente che non mi menta, è fantastico, però se tu sai che la tua azienda ha dei problemi, non sai fare marketing e tiri un po' avanti la baracca e dici a loro che invece hanno possibilità di crescita e quindi vuoi attrarre clienti, gente che ha fame, ma tu cosa gli offri? No, perché nella mia attività, ok, ma tu sai cosa stai facendo, perché se lo sai ci sono possibilità di crescita reali, ok, ma le persone annusano il fatto che tu non lo sai e se tu gli dici che tu sai, se tu sei un leader, il problema di essere un leader è che devi sapere dove si sta andando e anche possibilmente come arrivarci e deve essere anche la direzione giusta, questo sarebbe un video sulla leadership, diciamo io li guido, sì ma tu sai dove stai andando, perché se no è un problemino, dopo un po' se ne accorgono e quindi menti a loro e trovi gente che mente. Sì sì, ma io ad esempio nelle varie consulenze che ho fatto e che faccio identifico due macro problemi, ok, quando parliamo di personale, di collaboratori, quindi io divido gli imprenditori che vengono con problemi di staff, ok, in due categorie, il primo non vogliono assumere persone o vogliono assumere solo scimmie che devono solamente cliccare sulla tastiera, non capendo quanto questa roba sia sbagliata. Secondo problema, vogliono assumere persone ma non riescono proprio per quello che dicevi poco fa, inventano una crescita in azienda, dicono che ci sarà questa crescita esponenziale, tutte le persone che entrano, la nostra azienda è la più meritocratica, si cresce veramente, in realtà non esiste magari neanche un piano commissionale scritto bene. Serio, certo. Esatto, non ci sono le reali possibilità di crescita per le persone, una persona che entra in questa azienda solitamente si ritrova a dover fare una singola mansione e non sapere effettivamente quali passi può fare avanti, quale responsabilità si può prendere, come può scalare in azienda e quindi... E loro vogliono che i loro impiegati che trattano come tali lavorino per un disegno o che non c'è o che con loro non viene condiviso, che con loro ne è condiviso uno e nel back-end ce ne è un altro, diciamo, ma loro non gli diciamo questa cosa qua, diciamo, motiviamo, diciamogli che è tutto bello, eccetera. Ragazzi, le persone che credono che sia tutto bello quando invece non è vero sono persone del quotiente intellettivo basso, che al che sono dei normali operativi e non si cresce con i normali operativi, specialmente all'inizio, poi quando siete ipercorporate miliardari ci sarà la persona il cui ruolo è aprire la porta e chiuderla, i guai se fa qualcos'altro e questo lo può fare anche una persona che magari non è un genio. Quando state partendo no, voi avete persone brave, persone che spingono nella stessa direzione, persone pensanti dopo un certo periodo che co-pensano con voi e per voi, se no si può fare, noi lo diciamo ufficio, noi come Big Luca Group non abbiamo un trucco da offrire a nessuno perché non c'è, se no ve lo venderemmo, faremo un lancio con il trucco, però non c'è, non l'abbiamo ancora trovato, quando lo troviamo poi glielo vendiamo. Ma anche perché un'altra problematica seria è il tenersene le persone. Ok? Perché, esempio, sei in grado di attrarle mentendo, ok? Sei in grado di inventare una crescita e far vedere che la tua azienda è tutta quanta rose e cioccolatini quando in realtà dietro ci sono le magagne, ok? Perché anche qui, una persona quando si impegna con l'imprenditore, quindi un collaboratore si impegna nei confronti dell'imprenditore andando a lavorare e gestendo magari un reparto o cominciando a prendersi qualche responsabilità, lo fa se l'azienda dietro è sincera con lui, ok? Quindi molto spesso succede che le persone, gli imprenditori vengono, loro dicono, vengono traditi, ok? Dai collaboratori che se ne vanno, fanno altro, gli fanno delle scorrettezze, banalmente, gli rubano la lista, fanno delle azioni che non sono etiche, eccetera, eccetera. Ci chiediamo però se noi li abbiamo messi nella condizione di farle queste cose, perché ad esempio nel nostro caso, nella nostra azienda, non si verificano queste cose. Marginalmente, poi, certo, no, diciamo che per correttezza, capita a tutti nel percorso imprenditoriale di avere il traditore, quello che rubacchia, però se questa è una cosa marginale, residuale, è ascrivibile a un capito, cioè se voi un giorno nella vostra vita avete fatto malagoratamente un incidente in macchina, ci sta, 40 anni che guidate, successo, però è chiaro che se fate un incidente alla settimana, vi dovete anche un attimo chiedere, cioè se io vi dicessi, guido e faccio un incidente a settimana, voi avreste seri dubbi sulla mia abilità di guidare o sulla mia abilità psicologica, magari, non so, guidi e pensi ad altri, cioè in qualche modo un problema ci deve essere, questo è molto importante, questo è molto importante sul trovare dei collaboratori, anche io ho notato un pattern, il voler imbrigliare troppo i collaboratori, noi abbiamo questa abitudine nel Big Luca Group, chiediamo subito per i ruoli che lo prevedono delle responsabilità, c'è modo per vedere se tu sei in grado di fare un progetto e sai condurre, puoi trovare la forza lavoro per condurre questo progetto e metterti in mano il progetto, a un certo punto c'è un punto di stacco, ragazzi, perché se continuate a imbrigliare le persone in gamba non vogliono essere imbrigliate, tu cosa? Allora, io vedo che questa cosa è assolutamente giusta, dall'altra parte capisco alcuni imprenditori che però hanno altri problemi, quindi questa azienda in realtà dà la possibilità alle persone che entrano all'interno del nostro gruppo di avere da subito delle responsabilità e poterci far vedere, puoi farci vedere che cosa sai fare, ma perché? Perché siamo in grado noi di prenderci il rischio che questa cosa non avvenga, perché? Perché abbiamo un ecosistema di marketing che ci permette di avere determinate vendite, determinati margini, un profitto di un certo tipo e quindi mi posso permettere di rischiare, poi ovviamente è sempre un rischio super contenuto e calcolato, però perché so che sono coperto dall'altra parte. Ho molti imprenditori in consulenza che mi dicono, eh ma io non posso affidare questa cosa a questa persona perché se non la faccio io non entrano soldi in azienda ed hanno serie paura che questa cosa non cambi, non riescono a gestire magari un fallimento, perché se un'operazione di marketing ad esempio, torniamo nel, circoscriviamo il problema, l'operazione di marketing che tu hai affidato a una persona esterna non va come deve andare, magari loro sono sotto di tanto, ok? E quindi non possono permetterselo. Quindi, primissima cosa che io faccio ad esempio in consulenza è, ok, aggiustiamo tutto quello che c'è da aggiustare, poi iniziamo a costruire il team e cominciamo a capire chi deve fare cosa, perché questo è, io vedo, uno dei problemi più grandi che blocca completamente alcuni imprenditori. E la non fiducia, questa è un'altra cosa che a un certo punto non si risolve neanche, se io non ho fiducia in te non ti affiderò mai un progetto, non faremo mai business insieme, saranno mai questa tipologia di cose. Ci deve essere da parte dell'imprenditore fiducia nell'affidare un compito a un possibile manager ad esempio, ci deve essere fiducia da parte del possibile manager e l'imprenditore poi rispetti, ok, quello che è stato promesso, se manca questo non ci sono i presupposti per creare nessun team, creare nessuna collaborazione, nel fare nessuna tipologia di azione in questo senso, secondo me. Ok, la fiducia, questo è un tema importante perché, cioè secondo te, perché c'è tutto il catch 22, cioè nel senso dici io non mi fido perché non mi posso fidare, piuttosto che cosa avviene prima e cosa dopo, perché io parlo con degli imprenditori e mi dico ma ecco non è che io non mi fido, è che io non posso fidarmi perché mi fanno vedere tutti i problemi che hanno e quindi mi chiede ma tu ti fideresti di questi qua e anche io dico effettivamente di questi no, però è sbagliata la selezione alla base perché è sbagliato l'allineamento valoriale, io vedo anche un sacco di, abbiamo il corso gestione aziendale per Nababbi dove abbiamo un attimo insegnato queste cose, cioè io vedo anche delle selezioni che sono completamente inutili, quindi selezioni dove magari i candidati vengono massacrati completamente inutilmente, cioè dentro gli faccio il culo con me, non si scherzi, ma dopo che hai provato questa roba qui, cioè che cosa abbiamo risolto e poi puntualmente sono quelli che hanno più problemi, però c'è sempre il tema di se nasce prima l'uovo la gallina, cioè tu il discorso della fiducia, come lo identifichi? Ci sono persone che geneticamente non si fidano? Allora, torniamo sempre al discorso dei valori in realtà secondo me, perché anche lì se tu, allora parto in realtà da ancora prima, io adesso è un po' che non faccio colloqui, perché ovviamente abbiamo delegato queste parti, ci sono i vari manager che si fanno i colloqui per la posizione che loro stanno ricercando, eccetera, eccetera. Mi capita però ad esempio di fare dei colloqui per trovare persone che fanno magari altre cose e voglio ampliare, voglio creare nuovi progetti e fare altre cose, oppure mi capita di trasformare una consulenza in un colloquio, perché vedo, ok. Molto spesso alcuni miei colloqui sono in realtà relativamente brevi, cioè non c'è, io sono passato, quando facevo il dipendente, dal dover subire un colloquio, il classico colloquio alla Google con domande più disparate, dal senso della vita al che cosa hai mangiato ieri a colazione, che però nel mio caso non trovano nessuna tipologia di senso. Noi facciamo queste domande? No. Quanto dura, Nino? Perché questa è un'altra domanda... è completamente diversa, cioè sono cose che io faccio le domande che servono a me, ok, nel mio caso specifico. Se a me non serve sapere che cosa ha mangiato la persona il giorno prima, perché dovrei fargli questa domanda? Questo guarda, perché io vedo, esatto, poi ci sono dei metodi di, diciamo, identificazione di qual è l'identità della... io non voglio parlare male, però effettivamente io vedo pochi casi, ne conosco, di metodi di identificazione dell'identità, quasi test del qui che poi funzionano, cioè vedo sempre uno scollamento, cioè dove vengono fatte tutta una serie di domande e neanche l'imprenditore sa perché gliele fa. Una cosa che io noto è vedere se la persona ha la risposta pronta. Esatto, questa è una cosa che ad esempio anch'io ho notato molto, perché in realtà poi in quel caso mi rileva la mancanza del valore e della sincerità. Se tu mi fai una domanda dalla quale io non so la risposta, io ti dico, guarda Big, non ho abbastanza elementi, studio e torno con una risposta. Certo. Cioè, apprezzerei tantissimo una risposta di questo tipo durante un colloquio, ad esempio. Ti faccio una domanda alla quale tu non sa rispondere e mi dici, guarda, mi spiace, a questa domanda non so rispondere. Invece capita di avere una domanda magari alla quale non si sa rispondere e cercare di imbastire un discorso e creare quelle situazioni imbarazzanti dove tu sai che l'hai detta, ok, come cavolata, però dall'altra parte speri che la persona non se ne sia accorta, invece ce ne siamo accorti. Tentare, beh, cioè siamo già nella manipolazione, di tentare di far su la persona, così io dico, ma poi lui, beh, siamo già in un real, come si dice in italiano, in un contesto di poca sincerità, no? Che non va bene. Glielo dico agli imprenditori e ti ha dato la risposta pronta, hai assunto un bugiardo. Esatto. Hai una risposta pronta? È che tu gli hai chiesto una cosa che non sa e lui è stato pronto a supercazzolarti. Poi quando tra tre mesi questo ti pianta giù le bugie, tu ti svegli dopo tre mesi, cinque mesi, sei mesi, due anni e dici, ah, questo ha mentito, tutti i report sono sbagliati, ha messo tizzane, ha manipolato un altro contro, l'hai preso tu. Lo sapevi già. Cioè lo sapevi già, l'hai assunto così, gli hai fatto anche i complimenti, gli hai detto complimenti, bella risposta pronta perché poi succedono queste situazioni. Allora ci sono dei lavori dove magari è utile saper parlare del nulla e mentire, non so, ma neanche un vendito, non puoi dire non lo so. Ci sono lavori dove io accetto che uno, non si può dire non lo so, ma nella maggior parte dei casi, ma soprattutto internamente, non lo so, noi lo diciamo una volta ogni cinque minuti, non lo sappiamo, questi dati non lo sappiamo, dipende, allora è questo anche che provoca lo studio, perché anche questi molti imprenditori non dicono mai non lo so, e quindi loro, a loro volta, ai loro, ai loro collaboratori, impiegati eccetera, dicono che sanno una cosa e insegnano, questo ci è capitato moltissime volte di vederlo, si mettono a voler insegnare, addirittura a formare internamente le loro risorse su cose che loro però non sanno. Che assurdo. Guardate che non può, c'è veramente per chi guarda questo video, mi rende conto che da una parte non capite niente di marketing o magari avete fatto un funnel ma non avete mai studiato perché mica io compro i corsi, non sono mica scemo, certo, dall'altra mentite con i vostri collaboratori e non sapete niente, vi manipolate a vicenda così, diventa complicato fare dei soldi, Big Luca dicci, caloni, spiegarci come si diventa, è un po' dura o no? Cioè se non so il marketing, non abbiamo una roba sincera, quindi viziamo la relazione causa-effetto, perché a questo punto se tu mi menti io ho gli effetti di cause che non sono mai esistite, quindi non si capisce cosa sta causando cosa perché ci mentiamo, mi diventa difficile poi dirmi Big, voglio fare 200 mila euro netti al me e non lo so come si fa, con questi presupposti io non sono capace, non so se tu sia capace, non si può fare, mi aggancio anche a questa cosa perché hai parlato di facciamo 200 mila dollari, 200 mila euro, ok, altro fattore molto importante nell'assunzione, nella ricerca dei collaboratori è quanto li paghiamo, perché io ad esempio ho notato tantissimi imprenditori che vogliono il talento, vogliono il, per fare un esempio, il Cristiano Ronaldo della situazione, però poi lo vogliono pagare noccioline, per sempre oltretutto, noccioline primo mese, quando mi dimostri, quando mi dimostri cosa dovrebbe succedere, perché la persona in gamba capisce che non ci sono possibilità di crescita, cioè io il mio team non lo posso prendere per il culo, cosa facciamo, capite? Questo è molto forte, quindi non avere neanche idea di come possano essere remunerati oppure con prospettive di guadagno inesistenti, diciamo entri, faccio l'impiegato e voglio guadagnare 20 mila euro al mese, ragazzi 20 mila euro al mese nessun impiegato al mondo li guadagna, cioè, o fai, mettiamoci d'accordo, cioè bisogna essere chiaro, 20 mila euro al mese, se tu fai la grafica e metti le immagini, il tuo lavoro è utilissimo, bravo, e c'è 20 mila euro al mese, ma neanche nella Disney per disegnare le immagini, semplicemente non può succedere, bisogna fare altro, portare più valore, di solito la cosa si riassume in bisogna far entrare più vendite, un venditore poi invece il nostro venditore arriva a guadagnare delle cifre che sono incredibili, ci sono dei mesi che veramente si sta, parecchie decine di migliaia di euro che loro guadagnano sono numeri veri, quindi, cioè, 20, 30, 40 mila euro in un mese a venditore, quindi, insomma, ultimo mese ci saranno venditori da 18 mila euro, da 20 mila euro, sono cifre importanti, però vendi e quindi fai entrare i soldi, oppure devi gestire delle aree che generano molto di più di quello che tu puoi guadagnare in percentuale, perché poi non c'è nessun tipo di trucco. Io direi di fermarci qui. Abbiamo detto abbastanza. Abbiamo detto abbastanza, io so che tu hai un tuo canale con dei tuoi video di approfondimento, quindi invito le persone che guardano questo video a iscriversi al suo canale, guardare il video di approfondimento, iscriversi ai canali, metterci il like, suonare la campanella, alzarsi e fare una giravolta, eccetera, eccetera, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!